Buonasera a tutti ragazzi, oggi ci torniamo a Alda e a Salisa Rocco di Razzano, abbiamo un concerto di tutte le campane e adesso ascoltiamo la sonnata per la Santa Messa del 18 mezzo, quindi fra un tempo lo faccio vedere, questa è la mezzana, questa è la mezzana, adesso ascoltiamo la distesa della Santa Messa del 18 mezzo, prima la sonnata del 18 punto il battito è sul campanone e poi per non solane altre campane, e poi a distrottere 15 si è distesa della seconda campana, poi a distrottere mezzo e mezz'ora sulla terza campana, poi distesa della terza campana, e quindi a presto la nuova campana, domani ascolto a tutti, ciao! a presto! a presto! a presto! a presto! a presto! a presto! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.